eccoci guarda lì, tutti che disegnano che cosa stanno facendo tutti quanti? è la nostra grande gara di arte tutti si cimentano in pitture, in disegni, realizzazione di opere d'arte ah, avevo dimenticato che era oggi che sciocchina bello strano oh, che bel fiore sembra che tutti quanti si stiano divertendo davvero molto non proprio tutti, guarda come vedi? ehi, Bigio, che cosa c'è che non va? niente eppure qualcosa che non va c'è Bigio, per favore dimmi perché sei arrabbiato aspettaci lo sai, magari noi possiamo aiutarti non potete adesso tu ci devi dire che cosa c'è che non va non riesco a fare dei dipinti belli come tutti gli altri il che vuol dire che non vincerò un premio beh, ma tu hai mai provato a dipingere, Bigio? no prova prova come fai a dire di non essere capace se non provi? io vorrei ma non so come fare possiamo farti vedere ci sono tantissimi modi per fare un dipinto ecco qua, Bigio buona fortuna ha perso il pennello so già che non riuscirò mai a farlo provarsi che la pittura non faccia per te prova qualcos'altro qualcos'altro? tipo cosa? lo so io, tipo cosa spartì, 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 spartì ecco puoi indovinare di cosa si tratta? una macchina? no una collina? no ecco, adesso seguimi, Bigio oh, sono io ciao, sono qua sotto mi piace fammi provare oh no oh no oh no oh no